Il Covid in Puglia non arresta la sua corsa. L'ultimo bollettino epidemiologico del giorno dell'Epifania non lascia alcun dubbio. 1.581 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, mentre i tamponi effettuati sono 10.032, con un tasso di positività che si attesta al 15,7% in salita rispetto a martedì, quando era al 10,52%. In testa le province per i nuovi casi c'è quella di Bari con altre 589 positività, segue Taranto con 293, la provincia Bat con 190, 188 nel Foggiano, 158 nelle Cese e 149 in provincia di Brindisi. Due casi sono residenti fuori regione, mentre per altri tre non è stata resa nota la provenienza. Il totale delle attualmente positivi in Puglia è salito a 54.028. I decessi registrati nelle ultime 24 ore invece sono 23, di cui 11 in provincia di Bari, 6 nel Foggiano, 5 nel Tarantino ed 1 nel Brindisino. Il totale dei morti sale a 2.573. 1.110 i negativizzati che portano il totale a 40.345. Nota positiva sui ricoveri, 17 in meno nelle ultime 24 ore. Il totale dei ricoverati in Puglia quindi è 1.536, sempre oltre 52.000 i casi che sono ristretti presso il proprio domicilio e che non necessitano di cure nelle strutture ospedaliere. Grazie.